Connettere l'Università Aldo Moro di Bari con gli Atenei di tutto il mondo per offrire corsi organizzati sempre più ricchi e con tante opportunità in più per gli studenti. È l'obiettivo del progetto DESC, presentato tramite una conferenza stampa tenutasi nel Rettorato dell'Ateneo Barese. Un progetto di mobilità che consentirà a studenti e docenti baresi di fare esperienze nei paesi extraeuropei come America Latina e Turchia e viceversa. Mi posso anche permettere di estendere questa valutazione positiva anche all'impatto che questa mobilità avrà per la geografia territoriale quindi la città di Bari e la regione perché ci sarà un afflusso di personale qualificato, ricercatori, studenti che arriveranno a Bari per passare periodi di permanenza che vanno dalle due settimane ai sei mesi quindi arricchendo anche il tessuto sociale ed economico della regione. Lo scambio di competenze offrirà nuove opportunità di ricerca congiunta oltre a corsi organizzati tramite il metodo Double Degree o Join Degree ovvero condivisi con altri Atenei Extra UE. È un progetto che mira a cercare di applicare o sviluppare quelle che sono le tematiche dell'innovazione, quindi della sostenibilità economica, della trasformazione digitale e dei materiali innovativi per un'economia sostenibile. Il progetto garantirà dunque una grande affluenza di studenti e docenti nell'Università di Bari per un Atene ormai sempre più aperto e senza confini. In un mondo globale tra l'altro questo dei confini è un concetto veramente difficile da intendere. La ricerca penetra qualsiasi luogo, penetra il sistema neurologico di ognuno di noi e la quotidianità per questo anche affronta e sorpassa qualsiasi confine.